perfetto già siamo online questo è il bello della diretta come sempre certo, i piccoli inconvenienti ci sono sempre vediamo di ritrovarci allora stavo guardando ok stavo guardando sul tablet un attimino se mi si collegava sì, siamo già online sì, sì, volevo vederlo anche io direttamente c'è già qualcuno? aspetta che a me si è fermato proprio nel momento più importante sì, sì, c'è già qualcuno ciao ciao a tutti, io ancora non vi leggo quindi vi saluto tanto allora vediamo se me li dà i commenti no, i commenti non me li dà a me scusate mi si è bloccato Facebook un attimino solo che ho paura di accendere il tablet perché non vorrei che si blocca un po' tutto ciao ragazze come state grazie oggi mi sono preparata per fare la pubblicità della cicchita l'ho detto già alla Giovanna sei bellissima così oh grazie, grazie vabbè facciamo che io lo vedo sul tablet perché mi sono rotta di cioè allora spero che sia chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è vediamo appena ci colleghiamo vediamo chi c'è a leggere che diretta ma no come che diretta questo è il bello della diretta che ogni tanto ci si perde ma va benissimo c'è tutto bloccato c'è tutto bloccato ciao Giulia ciao Gabriele ciao a tutti Francesca adesso vi saluto tutti adesso adesso la Giovanna vi vede vi vede vi riesce a a seguire adesso ci sono ci sono scusate no ma la Maria Olga Tratti adesso vedo anche io i commenti è tutto ciao ciao ragazze ciao allora oggi oggi vi facciamo vedere un album ma non facile di più di più vero Jo? semplicissimo semplicissimo non potete dire di non farlo infatti questo è semplicissimo e si fa con due fogli di carta quindi c'è proprio senza consumare tanto se avete dei ritagli dai vostri pad quindi delle striscette lo riuscite a fare tranquillamente io mi sono già preparata come vi avevo detto dai due pad le mie strisce 4x12 ne dovete avere in tutto 6 così già diciamo avete tutta la base di partenza può essere la carta può essere di un unico pad può essere di pad diversi l'importante è che scegliate voi gli abbinamenti e così riuscite a farlo quindi è semplice se è vero già non hanno scuse per non farlo adesso infatti ragazzi è proprio semplicissimo ve l'abbiamo fatta semplice anche se mi odierete perché io metto la misura in pollici lo so no dai piano piano sto imparando la misura in pollici è che per me in pollici è proprio più semplice cioè proprio riesco in centimetri non lo so ci sono tutti i millimetrini è difficile però adesso man mano che vi faccio le pieghe vi dico le misure sia in pollici che in centimetri così ci troviamo tutte allora io provo di scrivere bele provo eh provo provo allora se non so se magari qualcuno lo fa con noi se avete la taglierina coordonatrice che ha tutte e due le misure chi può mi segua in pollici così capite che è veramente semplice è molto più più scorrevole però ripeto comunque ve lo dirò in tutti e due in tutti e due i modi e ce ne avete tutte le misure possiamo partire che dici Gio? sì dammi un secondo che mi è traduta la questione nel computer così ti faccio partire un secondo così ti vedi tutta lo fai Gabriele lo fa avevo tolto il wifi Francesca lo so che dura in pollici Francesca Dore Dore lo so che dura in pollici ma ce la farai confido in te confido in te ciao Teresa Elena ciao allora proviamo a vedere se adesso mi funziona così dammi un cerco ok ci siamo ci siamo adesso vi faccio venire un po' di mal di mare di giro la telecamera quindi allora Maria Polica ti chiedo una cosa prima di che cominci visto che dicono che ti vedi a tratti riusciresti a a scollegare magari il tavolo e dopo ti nego io vedere se è quello allora sì posso scollegarlo ok lo lo disattivo sì vediamo se sì vediamo se è quello il problema ok vuoi che vi metto l'equivalente va bene Gabriele se ci fai questa cortesina per noi va benissimo giusto Maria Olga lui mette le equivalenze va benissimo io lo adotto come segretario Gabriele ti roba sì ma tu metti i centimetri allora io lavorerò in pollici Francesca sei stata fortunatissima sei stata fortunatissima va meglio adesso mi vedete meglio perché l'ho l'ho tolta la connessione dal tablet quindi dovreste vedermi meglio vediamo controllo 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 la serena dice che lei ci prova fino a quando la bambina dorme ok va bene tu devi essere pronto tanto poi il video comunque rimane saremo anche in diretta su youtube giusto poi lo trovate anche su youtube sul canale youtube di mpm quindi andatevi ad iscrivere se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale youtube giusto giusto giustissimo adesso io vi metto anche il link di youtube se non ce l'avete ancora siamo ogni presenti adesso non avete scuse siamo un po' da perduta Gabriele chiede due minuti allora io vi giro la telecamera così possiamo iniziare il lavoro perfetto attenzione al malvado ecco qui così ci siamo quindi dal nostro pad di carte abbiamo preso due fogli io mi sono anticipata un po' il lavoro quindi l'ho tagliato da ogni foglio da 12 pollici per 12 abbiamo fatto tre strisce quindi tre strisce da 4 pollici per 12 su un foglio e le altre tre strisce sull'altro ci prendiamo la nostra taglierina diciamo questo sarà tutta la struttura del nostro album è tutta racchiusa qua in queste sei fasce ci prendiamo la taglierina io mi sono scritta tutto per non sbagliare sono stata di gente può essere contenta di me bravissima ho cercato di essere ordinata allora dalla prima fascia andiamo a posizionare la nostra carta sui 4 pollici Gabriele mi raccomando scrivi tutto e con la cordonatrice andiamo a fare la nostra prima linea quindi andiamo a marcare 4 pollici 5 pollici all'argo e poi a 9 pollici e questa è la prima parte dell'argo a tagliare l'erba adesso no veramente è vero che nelle nostre dirette comunque succede di tutto spero che non si senta se no devo chiudere veramente non si sente veramente non si sente ok ok allora abbiamo segnato quindi 4 pollici 5 pollici 9 pollici io la parte qui lascio tutto lungo per intero poi quando finiremo la struttura deciderete voi se tagliare o meno qualche pezzo io intanto vi faccio tutte le strisce quindi il secondo pezzo se avete dei disegni che si devono alternare mi raccomando queste misure le dovete fare in base a come avete alternato i vostri pezzetti di carta grazie Gabriele io ho messo su youtube ragazzi per chi vuole si può scrivere allora io elimino la parte della taglierina da qua sopra perché se no potrei fare danni irrimediabili seconda striscia stessa cosa 4 pollici vado a marcare poi a 4 pollici e 3 quarti vado a fare di nuovo la mia marcatura e poi a 8 pollici e 3 quarti praticamente quello che sto facendo io è nella non so se lo vedete nella parte centrale è di decrescere quindi se sono partita da un pollice in tutti e 6 i pezzi di carta andrò a decrescere questo sarà il dorsetto del mio album ci siamo? ci siamo direi di sì perfetto terza striscia andiamo sempre a 4 pollici 4 pollici e 5 ottavi come ve la faccio complicata come ve la faccio complicata ciao Claudia ti sei persa il taglio dell'erba in diretta poi poi c'è come c'è la porta aperta e mio marito e i miei figli sono in giardino e spero che anche non si senta che sono là che parlano e poi 8 pollici e 5 ottavi mi raccomando Gabriele non ti perdere le misure allora intanto Gabriele ha scritto che ci servono 6 strisce da 10,1 per 30,5 e avrete un piccolo scarto di 2 mm sì perché purtroppo c'è questa piccola differenza tra i pollici e i centimetri esatto allora la quarta striscia invece la andiamo a marcare sempre a 4 pollici perché poi sostanzialmente 4x4 sarà la misura interna del nostro album a 4 pollici e mezzo a 8 pollici e mezzo vedete io non sto tagliando sto facendo soltanto delle linee di marcatura dalla più grande alla più piccola per il dorsetto centrale allora aspettate che magari vi arriva in ritardo allora io vi do allora Gabriele facciamo così che Gabriele scusate Gabriele ve lo dà ve lo scrive e io intanto ve lo dico a voce i pollici arrivo ok adesso poi lo ripeto allora ripetiamo scusa Maria lo ripeto tutto allora la prima striscia si facciamo così Gabriele scrivi in diretta appresso a me per favore io provo in diretta in centimetri dai intanto che tu dici pollici dimmi allora la prima 4 pollici 5 pollici sono 10,2 millimetri 10,2 poi a 5 pollici che sarebbe 12,2 a 9 pollici che sarebbe 5 pollici perdonami sono a 12,7 2 oh sì scusami 12,7 ok a 9 pollici che sono 22 centimetri virgola 8 9 9 e questa è la prima striscia ok ci siete ragazzi 22 virgola 9 quindi la prima era 10,2 5 virgola 7 centimetri no scusate sono persa 12 12 12 7 22 9 la prima perfetto la seconda striscia 4 pollici quindi 10,2 sì poi la 4 e 3 quarti a 12 1 centimetro sì brava 12,1 e poi a 8 pollici e 3 quarti quindi 22,2 22,2 allora ripeto in centimetri a 10,2 12,1 e 22,2 ok andiamo con la terza così acceleriamo sempre allora 4 pollici quindi 10,2 sì 11,7 di pollici di pollici di pollici o centimetri scusami di centimetri te l'ho detto adesso ok 11,7 e poi e siamo a 21 centimetri virgola 9 ok ok 21,9 allora la terza invece a 10,2 a 11,7 e a 21,9 ci si è perfetto quarta striscia sempre 10,2 poi adesso ti senti un po' vicino infatti aspetta che chiudo 11,4 quindi chi è che sta scrivendo 11,4 perfetto e 21,6 21,6 ho perso anche la mano adesso ve lo continuo in centimetri va bene allora era 10,2 11,4 e 21,6 in centimetri ragazze perfetto quinta striscia la facciamo insieme in centimetri così andiamo più spediti ok allora 10,2 sempre sì perché questa è la misura della nostra pagina finita poi 11,1 11,1 perfetto e 21,3 ripeto questa è la pagina 5 giusto questa è la pagina 5 poi tanto lascio lo schermo ok dovete cordonare a 10,2 centimetri a 11,1 e a 21,3 dillo anche in pollici perdonami allora 4 4 e 3 ottavi 4 e 3 ottavi 4 e 3 ottavi no scusa ripeti l'ultima 8 e 3 ottavi ok allora la pagina numero 5 sarebbe cordonata in pollici a 4 a 4 3 ottavi e a 8 3 ottavi sì noi l'importante praticamente è che andiamo semplicemente a decrescere la spina centrale che sia in pollici che sia in centimetri quello che dobbiamo fare è decrescere decidiamo noi di quanto non so vogliamo decrescere di 4 millimetri decresciamo di 4 millimetri vogliamo decrescere di mezzo centimetro decresciamo di mezzo centimetro così che riusciamo a metterle tutte a scalare quella è perché la la misura della della pagina quindi quello che noi dobbiamo avere qui e qui è sempre della stessa misura che sia in pollici 4 o che sia in centimetri 10,2 quindi quello questo qui è uguale questa parte qui è la spina centrale che cambia andiamo semplicemente a decrescere adesso ragazze comunque se mi date 5 secondi ve le scrivo tutte le misure poi metterò lo schermino dopo la diretta metto lo schermino tranquilla tranquilla vi lascio il file nella sezione file vi lascio tutta la scheda ciao ciao patricia ciao patricia allora la sesta pagina siamo sempre a 4 pollici 4 pollici e un quarto 8 pollici e un quarto allora ve la dico in centimetri l'ultima la pagina 6 l'ultima 10,2 a 10,8 e l'ultima e l'ultima datemi un secondo a 20,9 ok ci siamo? capito in pollici e in centimetri ripeto poi però lo metteremo lo schema tranquilla tranquilla ripeto in pollici che sono a 4 pollici a 4 un quarto e a 8 un quarto a 8 un quarto perfetto in centimetri quindi a 10,2 a 10,8 e a 20,9 perfetto cioè troppo bravi queste ragazze manca l'ok che ok mi sono appena cosa manca una volta fatto questo abbiamo tutta la parte tutte le pieghe da evidenziare quindi io mi vado a marcare per bene prendo la pieghetta che faccio la figa anch'io con la pieghetta indispensabile la pieghetta mi raccomando ragazze vedete questa parte qui dove c'è l'altra marcatura io non la tolgo posso decidere se toglierla o meno questo sta a voi se volete fare le pagine interne del vostro album più o meno movimentate quindi potete decidere che so di lasciare due pagine dell'album semplicemente così oppure lasciare la letta lunga io qui l'ho fatto in alcune pagine l'ho tagliato e in altre invece ho lasciato la letta che si apre questo poi sta a voi una scelta sì dipende da quante foto vogliono mettere sì dipende da quante foto con questo ci potete creare delle taschine quindi è molto è molto versatile io ho deciso di non di non tagliarle in questo progetto perché questo ripiegato ci vorrò fare una tasca poi alla fine vi faccio vedere come quindi le lasceremo tutte lunghe adesso mi vado a piegare tutto chiaro ragazze tutto chiaro allora sostanzialmente questo andrà incastrato tutto uno dentro l'altro in sequenza se c'è qualcosa che non è chiaro chiedete pure Patrizia manca la terza pagina la terza pagina la stai facendo allora la dico in pollici e in centimetri no te la dico in centimetri perché te la stavi facendo in centimetri allora la terza pagina è 10,2 11,7 e 21,9 sono stata brava me lo sono anche scritta bravissima dai ogni tanto mi impegno veramente veramente non ho pensato a dartele prima scioccamente non te le ho inviate prima ah tranquilla Gabri scusami è che sì magari con la abbiamo la taglierina facciamo prima a darla perché se la vai a convertire con il convertitore di pollici fai un po' confusione quindi l'abbiamo fatto subito così non ci perdevamo con la taglierina perché la taglierina è la doppia misura esatto quindi io ho fatto tutte le mie pieghe ho rimesso in dentro tutte le mie alette quindi se voi andate a poggiare in sequenza c'è una che l'ho marcata troppo l'ho strappata sono stata troppo violenta lo sapevo io lo sapevo che ogni tanto ho queste manie magari con un pezzatino di 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 lo puoi rimediare si recupera quindi adesso una volta fate tutte le pieghe in sequenza le andiamo ad incollare ci siete? sì allora patricia chiede il pad di carte è bellissimo di quale marchio parliamo credo che questo passi di studio l'hai aspetta che mi sono tenuta la cimosa vediamo se sono brava a me sembra che sia di studio l'hai bravissima quale quale adesso facciamo la domanda su signora Longari su signora Longari mi dica il nome quello no ho già perso il nome non me lo ricordo mi ricordo solo la marca love and home love and home ok capito ragazze adesso me la cerco e me la cerco sì sul sito poi lo trovate Giovanna di questo ha anche i fogli sfusi questo ed è bellissimo poi ha una buona consistenza perché per fare quest'album ci vogliono dei fogli un pochino più robusti visto che non ha struttura in cartoncino all'interno scegliamo una carta che sia quattro e che abbia una buona grammatura altrimenti poi potremmo anche fare tutto con la carta florence e magari andarla a rivestire con una carta un po' più leggera quindi magari mettere dei ritagli come ho fatto io qui su ogni faccia dell'album allora la focaccia l'ho mangiata di nuovo ieri sera perché mio figlio ha fatto la cena a base non vale io invece guarda cosa vi porto in diretta solo da bere ecco non mangio io sto aspettando che mi hanno promesso un caffè shakerato un caffè shakerato sto aspettando vediamo se arriva ho fatto il caffè shakerato ok perfetto tutti fai di fare allora una volta faccio sì fate tutte le pieghe andiamo ad incollare io parto dalla spina più piccola e vado a crescere metto un filino di colla allora Gabriele scrive sì ma tipo le tre strisce da tagliare dal foglio se si fanno a 10,2 esce una patina più corta ma ok recuperate perfetto sì ma da una è un po' più corta le alette che poi avanzano non sono tutte uguali non possono essere tutte uguali perché noi andiamo a fare una andiamo abbiamo delle misure a scalare è normale che non siano uguali ok mi raccomando chiedete poi le alette per farle andare tutte di un verso un po' di qua un po' di là quindi un po' a destra un po' a sinistra io questa adesso la giro perché voglio che l'altra aletta mi si apra di qua e in più voglio girare anche la carta così mi si vede l'altro decoro ah sì potete fare tutto il giochino sì qua lo potete gestire veramente come meglio credete questa è la facilità dell'album sta proprio in questo che voi vi ritrovate dei musici vi ritrovate dei bellissimi movimenti da fare con i fogli veramente con delle semplici strisce potete piegarle internamente da un lato dall'altro poi decidete voi ripeto io poi ci farò anche delle tasche con questo vi faccio vedere su una come fare la tasca non vi lascio l'aletta aperta ah Sonia scrive un album versatile e semplice sì è molto veramente molto semplice questo album allora io stamattina mentre che preparavo un po' di cose ne ho fatto un altro anche perché una volta capito il meccanismo che adesso può sembrare un po' proibitivo fatto con le misure dette così uno magari dice oddio mi sono imbrogliata però una volta che avete capito il meccanismo credetemi è veramente facile riuscite a fare tantissime versioni io ne ho fatto uno ecco questo qui l'ho fatto stamattina con delle carte della First Edition ma potete veramente sbizzarrirvi questa è una struttura che vi permette di giocare tanto ed è semplice ecco non dovete andare a montare troppe cose intanto ragazzi vi ho incolato la pagina dove ci sono tutte le carte della studio live perché ce ne sono diverse sono tutte bellissime quindi sono tutte bellissime ma stanno già finendo tutte ma avete fatto il disastro ma brave brave sono rimaste poche allora domande correte a prendere le ultime ecco qui la Sonia scrive aspettiamo le misure sul gruppo sì sì non ti preoccupare Sonia poi metterò il file con tutto l'opinito quanto misura chiuso 4 pollici per 4 quindi la misura che voi decidete di fare dell'album adesso questo è 4 pollici per 4 voi potete farlo anche rettangolare perché io adesso le alette le ho ripiegate però se voi aveste voluto fare un album di 4 pollici per 6 lo potevate fare tranquillamente avevate le alette semplicemente più piccoline quindi con quest'altezza io ho messo quest'altezza perché con un foglio riuscite a fare 3 pagine dell'album e quindi è un bel cioè non c'è spreco così gli ho dato questa misura pari proprio per quello perché io vi potevo dire di farla di 12 centimetri però poi con un foglio ci facevate soltanto 2 fasce mentre dimmi che così in maniera precisa riuscite a ricavare veramente con due fogli un album perché questa struttura così è finita cioè l'abbiamo fatta in 10 minuti sì l'importante è che avete capito bene come si fa la struttura dopo la potete fare della misura che volete la misura la potete scegliere la misura la potete scegliere tranquillamente voi l'unica cosa una volta che avete deciso la grandezza dell'album quindi l'altezza e la lunghezza fatta la prima la parte del dorsetto che volete quindi la misura io qui ho deciso di farlo di un pollice poi sono andata a decrescere l'importante è quello perché se noi mettiamo degli abbellimenti all'interno dell'album se lo facciamo tutto attaccato poi viene brutto non si chiude bene invece noi gli dobbiamo lasciare vedete dello spessore fra le pagine quindi poi all'interno possiamo mettere gli abbellimenti che le foto che più ci piacciono ok quindi chi lo stava facendo c'è? allora hanno scritto ha scritto solo ha scritto solo la Sonia che è tutto chiarissimo direi che le altre sono impegnate a farlo sono impegnate a fare sono impegnate a fare per quanto riguarda questo è finito cioè così sarebbe finito l'album ripeto poi possiamo andarlo a decorare come vogliamo con queste alette possiamo farci anche delle taschine che ne so io decido di fare per esempio nella parte centrale dell'album faccio un taglio sulla linguetta qui in diagonale non sto prendendo misure sto facendo semplicemente un taglio che mi faccia d'apertura per una tasca aspetta che rimetto una taglierina perché prima l'avevo tolta per paura di tagliare quindi intanto te lego cosa ho scritto allora Colombina scrive adoro queste misure così piccole per gli album la Serena scrive fatto la Giulia piace cioè al lavoro finito è carino sai perché? perché queste le possiamo mettere in una scatola e veramente facciamo un bel regalo cioè queste messe in una scatolina fatta a misura diciamo è un buon compromesso sia per inserire le foto che per inserire dei pensieri quindi io nella parte centrale quindi e questo è l'album tutto aperto ho tagliato questo angolo non so se si vede vedete non ho preso misure ho semplicemente tagliato l'angolo e lo vado ad incollare sul lato più corto e sulla parte di sotto quindi ci metto giusto un filo di colla allora Colombina scrive io sono la metà però sei esaustiva la Giulia sto facendo tutto ok è delizioso scrive Colombina allora le ragazze che lo stanno facendo insieme a te direi che sono che è tutto chiaro ci sono perfette allora io voglio togliermi giusto una letta per farvi vedere perché questa tanto c'è lo simile come sto amore c'è calma c'è caldo c'è caldo mamma taglio una letta dall'album giusto per ecco ci voglio fare l'inserto per la tasca per farvi vedere cioè quindi quanto movimento gli si può dare semplicemente ecco qua adesso lo facciamo incollare ragazzi mi raccomando andatevi a iscrivere anche su youtube così ci sono stiamo mettendo piano piano tutte le dirette che abbiamo fatto così ci ritrovate così ci ritrovate io invece devo comprare assolutamente Gio non me lo farò scappare uno di quegli agggini per gli angoli sì perché adesso sono arrivati introvabili adesso vedi per far vedere che si può fare una taschina l'ho fatta in maniera proprio casereccia però insomma ecco qui vedete io l'aletta l'ho piegata l'ho incollata e con un altro pezzetto di pagina ho fatto la tag da mettere dentro quindi questo lo potete decorare veramente come più vi piace quindi per la copertina invece che cosa facciamo potete prendere un cartoncino vi avevo fatto scrivere quello da un millimetro anche se ce lo avete un pochino più leggero va bene dipende sempre da con quale carta lo andate a rivestire io adesso avevo quest'altra qui che è bella aspetta che vi dico il pad quello è della no della della casercraft casercraft no ed è craftiness and the happiness no la la collezione aspetta no c'è sopra il bollino vi voglio dire qual è la collezione non lo riesco a staccare c'è sopra ecco no ve la sto cercando raster un collection penso perché c'era sopra il bollino del prezzo come ho staccato mi si è staccato il nome comunque io sto utilizzando questo verso qui la Giulia scrive troppo bello questo albumino grazie mille grazie mille sono contenta che vi piaccia ripeto poi vi metto la struttura precisa nella sezione file però è veramente semplice questo in 5 minuti 10 minuti fate la struttura ed è facile anche la copertina perché non abbiamo un cartoncino eccessivamente rigido quindi non dobbiamo andare a tagliare tutti i pezzetti montarli faremo tutto con un'unica striscia io ho preso un cartoncino all'incirca da un millimetro anche un 300 grammi va bene la misura che ho utilizzato è preparateli 4 pollici e un quarto che in centimetri è 10 pollici 10 no dicevo se vuoi 10 pollici poi io lo dico in centimetri come vuoi ok 4 pollici e un quarto sì per quanto riguarda invece la lunghezza se vuole dipende da quanto vi piace che esca fuori il bordino io qui gli ho dato adesso ve lo faccio vedere così gli ho dato poco scarto vedete è meno di mezzo centimetro tra la grandezza dell'album non so se si vede si si vede così e la copertina ovviamente se a voi questa misura piace più grande voi potete lasciare un centimetro questo sta a voi questa misura io l'ho fatta in base al mio album e a quanto mi sarebbe piaciuto lasciare intorno quindi metto il mio album aperto aspetta tesoro non mi hai dato la seconda misura quindi 4 un quarto perché volevo far capire come regolarsi allora io mi sono regolata lasciando anche qui io l'ho fatta lasciare lunga proprio perché non sapevo magari ecco se uno voleva che uscisse un po' di più un po' di meno mi tengo anche qui sui 4 millimetri e vado a tagliare quindi la misura precisa per questo album qui è 4 pollici e un quarto per 9 pollici un quarto allora adesso ve lo dico anche in po' e in centimetri quindi la misura del cartoncino che sto facendo la Maria Olga sarebbe di 10,2 cm per 9,5 eh sì scusate no mi sono perso scusate 23 23,5 ok ripetiamo in centimetro in centimetro 10,2 per 23,5 perfetto vi ho messo anche il link alla carta della Kaiser che è bellissima sì con le sfiori sono stupende io utilisco questa parte acquerellata e vado a rivestire il mio cartoncino bianco quindi ce lo poggio sopra tolgo questo adesso è tanto a me non piace stare a ripiegare tantissimo la carta all'interno quindi tolgo all'incirca è un centimetro tutto intorno quindi sarà poco più di mezzo pollice quello che io ho lasciato per la copertina sì sì quello che serve per rivestire la copertina né più né meno quindi ripeto anche qui a gusto vostro a me non piace lasciare delle alettone lunghe vado a mettere la colla anche qua vostro vostra scelta se volete lasciare un centimetro se ce la fate benissimo lasciare un centimetro per tutti i quattro lati va benissimo se no per il taglio lasciate i due cinque sì se uno ha più difficoltà a piegare lascia un po' di più non è un problema io invece abbondo con la colla come potete vedere no no poca colla cosa fai? quello che serve ma io sono una piccola questa queste ragazze sono concentratissime concentratissime infatti ci siete ci siete ci siete ci siete tanto l'album è quasi finito e poi vi devo far vedere le farfalle bellissime farfalle fatte con i pezzi bravissima allora quindi per rivestire la copertina come si fa di solito quindi vedete io non sto lavorando con i vari pezzi della copertina separata ma sto lavorando tutta una fascia unica perché il cartoncino è abbastanza maneggevole e me lo permette per questo tipo di album va benissimo ad occhio vi potrà sembrare troppo leggero invece io adesso che ce l'ho in mano ma poi anche quando lo farete voi la consistenza è giusta è proprio giusta per fare questo genere di lavoro piego anche le altre alette così mi vado allora la polombina scrive sì ci siamo sì sono impegnate sono molto concentrate ma sono contenta poi mi dovete far vedere mi piego i miei triangolini esattamente a 45 gradi mi raccomando se non ce lo avete vi prendete l'attrizzino della Gio che vi aiuta a fare i 45 gradi precisi 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 oh mamma grazie lo posso vedere in diretta il mio shaker questa è l'unica cosa difficoltosa guarda l'angolo dei 45 gradi questa è l'unica cosa difficile della copertina eh sì ma lì basta che lasciate comunque messo cioè 2-3 mm nell'angolino basta lasciare un pochino di più ecco il mio calcino in realtà già l'ho shakerato eh Maria Olga quindi ah sì allora mi faccio un sorso di te anch'io esatto guarda che oggi anche qui da noi fa caldissimo è buonissimo amore oh che bravo loro non ho nessuno oggi che mi porta niente no loro coccolano troppo la Gio la famiglia ma te lo meriti ma te lo meriti allora vado ad incontrare qua potete utilizzare quello che più vi piace anche il nastro biadesivo perché il cartoncino non è troppo spesso le pieghe le tiene tutte io preferisco la colla ma volendo potremmo usare anche il cartoncino quello della Crab il 300 grammi o è troppo 300 grammi sarebbe il top per questo progetto il 300 grammi e il top ecco qui oddio non ho capito Colombina Proz sei iscritto confermi Gabriele che cosa conferma mi sono persa vedete la copertina abbiamo il rettangolo rivestito quindi non abbiamo fatto nessun segno per il momento ci andiamo a posizionare il nostro album quindi questa parte qui sarà quella che riveste questo ah ok quindi non hai bisogno di rivestire le altre parti no no non c'è bisogno di rivestire ecco perché è semplice cioè fatto tutto con pochissimi passaggi pochissimi passaggi vedete Gabriele non ho capito ah che fa caldo anche da noi sì io non lo so ma da voi fa caldo da noi fa caldissimo oggi ah infatti no dicevo sono io che cioè non vorrei entrare già in meno pausa no no fa proprio caldo allora importante è che quando posizioniamo al centro quindi il nostro album per attaccare la parte del retro dell'album sulla copertina ci andiamo a segnare prima di incollare dove va a cadere la piega perché poi se no ci è difficoltoso quindi ce lo pieghiamo quindi qui dove era segnato un pollice dell'altezza è qui adesso per chi lo ha fatto proprio uguale con le mie misure vi dico anche la misura così è sicuro che non sbagliate quindi andiamo a marcare anche a te Colombina cin cin in Sardegna tantissimo ma Colombina anche te sì di Sardegna vero abbiamo anche la nostra Giulie che è di Sardegna però lei vive qua Ferrara ma tutta Italia tutta Italia allora andiamo a marcare a 4 pollici e un ottavo sei pronta con le misure giù? sì 4 pollici e un ottavo ok quindi sarebbero 10 virgola 4 millimetro 4 5 adesso intanto che tu mi dici le misure io le cerco 4 un ottavo sarebbe 10 10 e mezzo all'incirca sì giusto 10 virgola 5 poi e poi marchiamo a 5 pollici e un ottavo che sarebbe 13 scars quasi un millimetro ma no non ci arriviamo sì facciamo anche a 13 o 13 o 13 o no per capirci questa misura qui è identica a quella del dorsino più alto perché va incollato qua serve proprio per facilitare la piega della chiusura della copertina quindi voi ragazzi quelli che lo stanno facendo i pollici guardateci voi un attimino il dorsino se è 13 o 13 virgola 1 ecco giocato il metro ecco qua e semplicemente per farlo ridare dopo quando andiamo a posizionare in modo che quando chiudiamo l'album ci ridà perfettamente tolgo questa tag che non mi piace colla 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 poca colla sì poca colla va bene io mi posiziono intanto la parte centrale con queste carte che ho utilizzato io sono abbastanza neutre quindi non ho un verso e non sto attenta diciamo a come sto girando l'album però mi raccomando se voi avete un verso controllate sempre che posizionate tutto per bene quindi se avete il verso della carta perché è fondamentale se vi si sposta poi è così per fare se avete delle carte che sono impegnativi dei disegni impegnativi guardate quando fate le chiede questo album questo album consiglio di farlo proprio con carte poco impegnative tra virgolette cioè proprio di base così lo facciamo in maniera veloce e possiamo dedicarci a decorarlo poi come più ci piace dentro essendo una misura piccolina se noi scegliamo delle carte molto elaborate quando andiamo a mettere le foto vogliamo mettere gli abbellimenti secondo me diventa tutto troppo pesante quindi con delle carte semplici poi andiamo a valorizzarci la copertina andiamo a valorizzare magari qualche pagina interna con una taschina e risulta più leggero il lavoro altrimenti secondo me è troppo troppo pesante ecco qui attacchiamo lo stesso l'ultima pagina sulla copertina e ci siamo quindi è chiaro il procedimento della copertina che va rivestita solo da un lato perché poi verrà incollata sopra l'ultima pagina dell'album allora ancora non hanno scritto ha scritto solo la Giulia che sta salutando la Colombina e Sonia dice giusto meglio decorare dopo è perché comunque arriva un attimino in ritardo la connessione sì allora Serena chiede mi dite le pieghe della copertina e allora te la dite i pollici e poi te la ripeto in centimetri perché non mi ricordo se tu la stavi facendo credo in pollici però allora era di 4 e un ottavo ed è 5 e un ottavo che in centimetri sarebbe sarebbe di 10,5 e di 13 o 13,1 ok perfetto vedete questa è la struttura quindi la prima pagina dell'album è andata incollata alla copertina così come l'ultima io qui ho lasciato l'aletta e poi ci sono tutte le altre e decidete voi come farle quindi farci la taschina come ho fatto io qui oppure se fare lasciare le alette lunghe la struttura è finita bellissimo bellissimo cioè non vi potete lamentare questo lo dovete assolutamente fare questo adesso lo dovete fare perché ripeto questa mattina in 10 minuti ne ho fatto un'altra e poi si fa con pochissimo materiale pochissimo materiale poca spesa buona resa capito ho fatto anche la pubblicità ecco è stupendo come per chi come me però vabbè non ha fatto ancora il regalo per il giorno della mamma alcuna vedete che bello vedete che bello allora adesso l'andiamo a decorare ovviamente io qui ho fatto questa farfalla con il bellum e lo spago quindi io con lo spago ho ricavato questa farfallina e poi vi faccio vedere adesso ho disegnato tipo dei petali possiamo chiamarli così proprio le ali della farfalla sul bellum l'ho ritagliato e ce l'ho incollato con il pennarello allora scusami Maria Olga la Francesca chiede più o meno quante foto ci stanno allora foto ce ne stanno considerato che io qui non l'attacco uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette una ventina abbondante di foto ci vanno io non conto mai tutte le facciate perché non mi piace riempire tutte le facciate mi piace mettere ti faccio un'altra domanda scusami la Claudia è super facile quindi Claudia è da fare e poi la Patricia ci scrive mi fai vedere nuovamente la copertina anche dietro allora te lo apro così Patrizia guarda questo è quello che avevamo intero ho rivestito il cartoncino abbiamo fatto il dorsino di un pollice perché io l'avevo fatto quindi in questa altezza qui l'album poi io adesso l'ho già incollato vedi quanto margine ho lasciato qui sarà un mezzo centimetro scarso quindi la misura della copertina la fai un po' più grande e l'ho rivestita e ripiegato il bordino all'interno e poi ci ho incollato sopra l'album quindi questo e quando vedi l'album aperto la patricia dice che sei il top maria olga grazie che emozione grazie mille e ci sono anche cuoricini ogni tanto non te lo vedo per belli cuori però devo far mettere le emoji con i fiori voglio le emoji con i fiori fate partire i fiorecini così allora quindi questa è la struttura ce l'andiamo a decorare sopra io avevo dei ritagli quindi qua potete veramente sbizzarrirvi con questo lo so che a voi sembrerà stonato però a me la riga mi ci piaceva a morte è proprio bellissimo col rigo e quindi io qui andrò a mettere un pezzetto di carta con le righe perfetto poi vi potete timbrare dei sentiment quello che volete io qui ne avevo qualcuno e me lo son preparato però ripeto questo va al gusto vostro quello che vi piace aspettate che cerco un po' di adesivo spessorato eccolo qui nella mia cassettina magica ti leggo un po' di messaggi Claudia scrive veramente so la Patricia scrive grazie mi mancava quel pezzo spieghi proprio bene sono contenta che sia chiaro questo per me è fondamentale allora adesso però ti chiediamo è più del più Maria Orga e ho messo tanti fiorelini Gabriele mi ha messo i fiori Gio tu che dici riga verticale o orizzontale verticale girala scusami com'è che ne hai messa aspetta che taglio taglio un pezzetto che poi tanto posso utilizzare comunque mi piaceva il corso orizzontale allora o così no girala aspetta no adesso quello non lo posso girare devo farne un'altra e no perché che giro o così che ci va poi io penso che forse è così esatto perché ok perfetto andiamo di riga quindi mi faccio la stessa misura qui adesso io non sto dando delle misure perché giustamente poi vi regolate voi qua dovete andare in casa la Carla Alice scrive bellissimo e bravissima la Colombina scrive orizzontale così volevo andare così perfetto mi piace mi piace sì ci attacco la mia scrittina poi adesso posiziono anche gli ispettori l'accorcio un po' così ci facciamo la farfalla veloce veloce io lo voglio mettere ecco un po' così cioè questa volta lo farò meno ecco qua vedete lo metto a scalare sì così se avete dei sintomi con i sentiment tante cose potete decorarlo così potete abbellirlo come più vi piace a me ecco una cosa che piace per esempio delle copertine è utilizzare lo spessorato tanto mi piace perché mi piace a dare movimento e ad infilare gli elementi sotto allora la partizia scrive grazie 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 per ora lo termino così poi vedrò come decorarlo ma sì sono contenta che vi sia piaciuto e che lo abbiate fatto sono veramente contenta io non sto facendo l'album con te ma perché semplicemente sono impegnatissima che sono rimasta senza regalini per gli ordini e quindi sto facendo sto provando di fare i fiori quindi per quel motivo non lo sto facendo sei giustificata sei giustificata non sono giustificata adesso vi faccio forse vedere un fiorellino in diretta forse perché ce li ho di là allora adesso chiamo mia figlia allora se volete realizzare la farfallina con il vellum e lo stago una volta che avete posizionato le vostre le vostre carte i vostri abbellimenti io per fare la farfallina faccio semplicemente due giri sulle mani quindi sulle dita dello stago e poi mi controllo com'è l'apertura all'argo non so se si vede ok ci faccio un altro giro qui giusto per fare il nodino quindi vedete semplicemente un cerchio chiuso e annodato allora vediamo cosa scrivono Giovanna ho capito solo ora che stai a Ferrara siamo vicine dove sei Margherita dove sei a posto Gio guarda ho fatto la farfallina con lo spago no me la sono persa dopo me la guardo bellissimo guarda 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 due giri intorno alle dita e poi qui con un altro pezzetto di spago qui ci fai un nodino e allarghi e quindi è la farfallina vista così bellissima stupenda e la andiamo a posizionare e la andiamo a posizionare qui io ho già la colla a caudo perché fa più presa per queste cose qui utilizzo la colla a caldo Francesca dai San Giorgio di Piano provincia di Bologna lo conosco benissimo mio marito è di Bologna quindi intanto che lei incola la farfallina io vi faccio vedere i fiorellini che sto facendo dove dove è qua facci vedere facci vedere bellissimi bellissimi che sto facendo per voi per tutti i regalini che do quando fa degli ordini quando ci arriveranno i passi ci saranno i regalini i caduti tutti i nocci per quanto riguarda invece le farfalline in bellum che cosa facciamo? una cosa bellissima con i colori prima di tutto vabbè ci scegliamo che colori abbinarci prendete dei colori alcolici quindi ad alcol ma anche ad acqua io qua ci voglio andare con il verde quindi la mia farfalla sarà verde verde e azzurra no verde e biolo la Giulia la Giulia ti scrive la farfallina con lo spavo e un tocco di clase grazie adesso vi faccio vedere che questa è una cosa bellissima come fare la farfallina con il bellum quindi pezzettino di bellum più o meno leggero se avete quello scolastico la carta da lucido per capirci va bene lo stesso con due tonalità di colore io adesso vado su con i verdi faccio delle gocce più o meno grandi questa qui sarà di un centimetro e mezzo due quindi faccio queste gocce di colore le faccio in due tonalità di verde che poi andrò a ritagliare e in due tonalità di azzurro non devo essere precisa non devo essere una grande disegnatrice Claudia perdonami se uso così i colori in maniera proprio elementare ma io mi diverto così quindi questo è disegno complicatissimo attenzione però di grande effetto poi la colombina è elegantissima grazie mille con un pennarello andiamo a tracciare i contorni di quello che abbiamo disegnato un po' con la mano tremolante io ci passo due volte quindi come se stessimo facendo il doppio contorno tipo un effetto cucitura per capirci ah ok tutte e quattro adesso ve lo avvicino e ci faccio anche tipo dei segnettini proprio tipo in puntura quindi quello che dobbiamo avere ottenere è questo si vede bene? si perfetto li andiamo a ritagliare singolarmente non insieme io l'ho fatto vicino perché così avevo un pochino più il senso di quello che sarebbe stata la grandezza della farfalla con questo metodo ci potete fare anche i fiorellini fate i petali quindi ce lo ritagliamo guardate non è importante se siano meno attaccati però questa volta mi sono capitati mi piace come sono venuti vicini li lascio uniti mentre questi verdi che mi sono venuti più staccati li faccio uno per se non mi sbaglio anche la Claudia aveva fatto una volta il bellum ma credo è imbossato imbossato con la polverina quindi anche il bellum piace veramente tanto perché non lo so mi crea un po' movimento e leggerezza al lavoro qua per esempio ho fatto questi fiorellini cioè mi piace proprio l'effetto che crea qua la farfallina cioè da un po' di leggerezza al lavoro non lo so mi sembra che gli dà un tocco un po' particolare sì sì no è molto bello quella cosa lì poi la farfalla in spago la devo fare assolutamente sì ma anche per esempio come lo so te ne inventi sempre una te ne inventi sempre una meglio dell'altra non riesco a stare col cervellino fermo allora Giovanna ti devi capire io la notte dormo io la notte dormo molto poco quindi soffro di insonnia e allora penso la notte me le le marchi ingegno tutte ecco brava poi mi prende sonno la mattina presto però quindi faccio fatica no io dormo dormo cioè dormo non è poco però quando posso dormire dormo ecco qua quindi sempre con la colla a caldo e aiutandomi con adesso ho un punteruolo perché non ho le pinzette ecco queste mi mancano un paio di pinzette piccole mi mancano e me la vado a posizionare poi le aggiustiamo dopo non è un problema intanto gli diamo la posizione poi le possiamo sagomare come ci piace avevamo anche Emma che ci scriveva su Youtube che ti ha scritto bellissimo questo album ora vi guardo e poi lo farò perfetto che bello e com'è andata su Youtube adesso sono curiosa allora su Youtube sta andando il problema è che ancora abbiamo pochi iscritti quindi quasi tutti ci seguono ci seguono su Facebook quindi piano piano vuole l'iscrizione al canale Youtube allora è la Sabina e scrive brava Olga bellissimo lavoro sono contenta sono contenta ecco qui finita anche la farfallina ragazze e praticamente avete già il regalo del giorno della mamma infatti non avete scuse io purtroppo la mia mamma non la posso ancora andare a trovare perché è un'altra regione però appena la vedo sicuramente tanti regalini tanti regalini finita perfetto è bellissimo sono contenta che ti piaccia allora se vuoi avvicinarlo un pochino e lasciarlo un pochino in camera così lo vedono le ragazze poi tanto metterò la foto è stupendo bravissima lì Vivi e sogna a colori a colori bello molto bello sì infatti c'è alla fine con due fogli di cartoncino cioè si fa per un pochino con poco cioè anche perché se andiamo a vedere in un pad ma c'è un'avanza di carta tante volte quindi io poi qua poi qui se per caso in mezzo non vi dovesse piacere come è venuta la farfallina ci mettete due perline due lustrini dei drop quello che vi piace quello che vi piace ecco qui è splendido te scrivono bellissima bellissima insomma quanti complimenti rigiro la telecamera perché ecco eccomi qui guarda c'è le guance rosse che fa caldo anche qua Giovanna cioè veramente io mi sono mi sono bevuta per fortuna questo cigalato era freddissimo quindi mi è passato un po' tu hai il tè caldo c'è il tè no c'è il tè freddo ah ok quando mi hai detto il tè freddo no no c'è il tè freddo c'è allora la tua tesoro quindi ragazze che dite è stato bello vi è piaciuto guardate in un attimo guarda guarda quanti ne ho adesso non c'è per la mamma non c'è per la mamma non c'è per la nonna ce ne ho per tutte allora ti scrivono ti scrivono bello e stellare anche da me fa caldo sì quindi è bellissimo allora niente stupendo ti scrivo è stata bravissima la nostra Maria Olga grazie mille grazie mille bravissima poi la pappalina con lo spago è meravigliosa non c'è niente da dire mi piace alleggerisce alleggerisce da quel tocco in più è una cosa e la cosa no che ci contraddistingue no è quello che ti fa dire ho fatto un lavoro personalizzato è quella cosina di più di più che bello infatti grazie Olga ti scrive anche Gabriele va bene noi per oggi benissimo per oggi vi salutiamo un po' ci vediamo la prossima ci vediamo mi raccomando iscrivetevi sul canale di Youtube certo ci vediamo nella prossima riletta che è martedì se non mi sbaglio ci sarà Sonia con noi la mela dei desideri sì che è Sonia come la mela dei desideri che è la nostra Sonia allora niente ragazzi io vi saluto vi abbraccio tutte e vi auguro un buon fine settimana un bacione a tutte ciao 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 ok